Scuola e ripartenza. Come era prevedibile, l'anno scolastico comincia in ordine sparso. Nel Nord Italia la maggior parte delle scuole riprenderanno le lezioni il 14, così come è deciso dal ministro Azzolina. A fare la differenza sono le regioni del sud. Puglia, Basilicata e Calabria hanno deciso di posticipare il fischio d'inizio al 24 settembre. Ressa l'incognita campagna. Per il momento si parte il 14, ma nei prossimi giorni la giunta di Palazzo Santa Lucia potrebbe decidere di far slittare la ripresa della scuola al 24 settembre dopo le elezioni. La decisione finale potrebbe arrivare giovedì, dopo il confronto tra il governatore Vincenzo De Luca, i sindacati, i dirigenti scolastici di tutte le province e l'unità di crisi. Nel frattempo in campagna sono in arrivo kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari per gli studenti meno abbienti. Potranno essere acquistati dalle scuole con i fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione. Sono 74.434 i ragazzi campani delle secondarie di primo e secondo grado che ne beneficeranno.